Il terreno è disputato palmo a palmo. I Lazzari, questi uomini meravigliosi, sono degli eroi, comandati da capi indrevidi. Il porte di Sant'Elmo li fulmina di cannonate. La nostra baionetta li atterra, ma essi li piegano in ordine e tornano alla carica. Anche il generale Bonamì, capo di stato maggiore, scriverà nel suo rapporto, l'azione dei Lazzari passerà alla storia.